bene ragazzi oggi abbiamo un dispositivo android dove sono state cancellate tutte le foto come potete vedere andando in galleria abbiamo semplicemente 11 fotografie ora la prima cosa da fare è andare sul play store e scaricare l'app recuperare foto cancellate la installiamo e ovviamente l'andiamo ad aprire nel momento in cui l'apriamo iniziamo la ricerca e lui ci chiederà il consenso per accedere ai contenuti del nostro cellulare e ovviamente dobbiamo darglielo perfetto ci ha trovato quasi 4000 fotografie che sono state cancellate a questo punto andate a selezionare tutte le foto che siete interessati a recuperare e cliccate sulla rotellina verde lasciamo stare la pubblicità come vedete i file vengono ripristinati se usciamo e andiamo nella nostra galleria troveremo più foto rispetto a quelle che avevamo prima quindi tutte le foto che abbiamo deciso di recuperare bene ragazzi spero che vi sia stato d'aiuto mi raccomando iscrivetevi alla pagina aggiungete dei like e condividete se il video vi è piaciuto ciao ragazzi